Quello che chiediamo alla politica oggi attraverso questo incontro è che ritorni a parlare di sanità, perché oggi la sanità è scomparsa dai programmi politici o comunque toccata in maniera molto tangenziale. Quello che vorremmo è che il nuovo governo e i partiti capissero l'importanza dell'industria dei dispositivi medici, non solo come un'opportunità per il Paese da punto di vista economico e occupazionale, ma anche un'opportunità per il Paese per fare salute migliore e per garantire anche agli cittadini italiani l'ingresso nella cosiddetta medicina del futuro, la medicina delle 4P, che è quella che garantisce al cittadino di prevenire l'insorgenza della patologia invece di essere curato quando si ammala. Noi crediamo che la nostra nazione tecnologica sia quella che permetterà ai cittadini italiani di arrivare in questa medicina nel futuro, chiediamo una nuova governance del sistema, chiediamo regole più chiare e più semplici, chiediamo un sistema che incentivi le nostre industrie a rimanere in Italia e a fare impresa, perché oggi fare imprese nel settore dei dispositivi medici è molto più veloce che non fare in altri settori della white economy. Abbiamo visto recentemente da uno studio di Confindustria, da cui noi abbiamo partecipato, di quanto la white economy rappresenti un valore economico e sociale per il Paese, con oltre il 10% del PIL, è un'occupazione e un mercato in crescita. Oggi il mondo dei dispositivi medici sopravvive soprattutto grazie all'export, vorremmo che le nostre industrie trovassero nel mercato domestico il punto di partenza per diventare grandi.